In questo periodo abbiamo ultimato un grosso progetto di ricerca e sviluppo fatto nel contesto del PIA, i programmi di investimento e di aiuto alle piccole e medie imprese che ha dato origine al prototipo di Parkilon, Resetami Parkilon che è una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata per coadiuvare pazienti, medici ed operatori e anche servizio sanitario regionale nella corsa contro il Parkinson.